Le banche italiane sono sempre più impegnate a favorire la crescita dell'innovazione tecnologica del paese. Dall'ultima rilevazione a Abicipa sull'information technology nel mondo bancario italiano emerge che nel 2018 la spesa e gli investimenti IT dei 19 gruppi facenti parte del campione è stata di 4,7 miliardi di euro. La ricerca sottolinea che il 39% circa del totale della spesa, oltre 1,8 miliardi, è stata destinata all'implementazione di nuovi progetti e funzionalità, cioè investimenti in nuove tecnologie come di open banking, mobile banking o data governance. L'innovazione è una componente fondamentale del servizio bancario e la relazione tra banche e fintech è sempre più complementare. In un contesto dove nuovi soggetti si affacciano offrendo servizi finanziari digitalizzati, le banche fanno la loro parte investendo in tecnologia e innovazione a supporto del business.